Città e Scena, festival diffuso della rigenerazione urbana, un evento nazionale che fa tappa all'Aquila, promosso da ANCI, Associazione Mecenate 90, CIDAC e Fondazione Musica per Roma con il patrocinio di NARC. Un evento speciale dedicato agli interventi di rigenerazione urbana collegati al processo di ricostruzione post-sisma che conclude le tappe territoriali dell'edizione 2024, prima del Festival di Roma, previsto a dicembre. Protagonisti della tappa ai territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici del 2009 e 2016. Questa rigenerazione urbana, all'Aquila sappiamo benissimo quello che è stato il sisma, la ricostruzione che è avvenuta dove era e come era. I palazzi così monumentali non potevano essere cambiati. Di rigenerazione urbana c'è, ma c'è tutto da imparare, diciamo, è da capire, ma non per questo il capoluogo d'Abruzzo non ha presentato il proprio progetto per quanto riguarda la rigenerazione urbana. Questo trova anche spunto e noi l'abbiamo voluto mettere nella scaletta per quanto riguarda il piano regolatore perché si va bene a collegare con la rigenerazione urbana, che sappiamo benissimo che all'Aquila il piano regolatore è fermo da ben 50 anni. E questo è da dare merito al sindaco Pierluigi Biondi che l'ha voluto ed inoltre non soltanto per questo i meriti ma anche per quanto riguarda la rinascita di questa città, il sindaco Biondi. Oggi ci saranno questi spunti che, come diceva, è un festival itinerante che si è svolto in varie città italiane. Questa è la penultima, diciamo, tappa. Il prossimo anno ci sarà la tappa finale a Roma che verranno scelti i progetti e verranno premiati quei progetti che veramente meritano e che ridanno lancio e futuro alle città. Obiettivo mettere in luce quei progetti che puntano a dare nuova vita e nuove funzionalità a luoghi e quartieri interessati dal processo di ricostruzione. L'evento è una portata importante perché organizzato insieme al Comune dell'Aquila, Ancelacui, Lancia Abruzzo, Ancelazio, Ance Marche e Ance Umbria, nel corso della mattinata sono state raccolte molte testimonianze, anche internazionali. Si è parlato di centri storici e quartieri di confine, presentati anche i progetti di Castelluccio di Norcia, Cortino, L'Aquila, Navelli, Rieti, Teramo, Amatrice, Colledara, Macerata, Mateliche e Spoleto.